signori buongiorno e bentornati nel canale master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nelle scorse settimane abbiamo parlato di come andare a riferire tutte le informazioni utili per giocare all'interno un'ambientazione sia dal punto di vista dei giocatori che dal punto di vista del master ma ovviamente in tutti quei video abbiamo sempre dato per scontato che si parlasse di un'ambientazione scritta da altre persone o magari presa da un romanzo in un film ovviamente se l'ambientazione è stata scritta direttamente dal master o comunque da uno dei membri del tavolo l'unica possibile fonte di informazione è il materiale che quella persona può comunicare agli altri membri del tavolo e parlando con altre persone sempre all'interno dell'ambito del gioco di ruolo è saltata fuori proprio questa dicotomia cioè la gente considera che esistono due modi per avere un'ambientazione per il gioco di ruolo o qualcuno al tavolo si metterà e ne scriverà una studiata apposta per quel tavolo o per quella specifica campagna o verrà presa un'ambientazione terza magari da dei manuali del gioco di ruolo fatti apposta o verrà adattato qualcosa da un universo cinematografico o novellistico quello che è nella pratica però questa dicotomia in realtà non è vera perché se è vero che prendere un'ambientazione già fatta o scriverne una ex novo sono entrambe pratiche perfettamente legittime che esistono fin dagli albori del gioco di ruolo non sono gli unici due modi per avere un'ambientazione e questa settimana andremo proprio a vedere il terzo caso cioè quello di modificare pesantemente qualcosa di già esistente andremo quindi a vedere come adattare un'ambientazione e soprattutto perché potrebbe essere il caso di farlo per evitare fraintendimenti chiariamo subito quando si parla di modificare di adattare un'ambientazione si intende prendere un ambientazione un universo immaginario già stabilito come potrebbero essere i Forgotten Reams o l'universo di Star Wars e di apportargli delle modifiche dei cambiamenti per venire incontro alle esigenze della quest o anche semplicemente ai gusti del tavolo nella realtà bisogna dire che è praticamente impossibile prendere un'ambientazione già esistente e portarla al tavolo senza che questo porti di per sé una modifica o che serva un qualche tipo di adattamento per poterla giocare per quanto tutti nel gruppo potrebbero essere convinti di voler fare una rappresentazione di quell'universo immaginario il più simile possibile a quella che l'autore iniziale ha descritto già solo il fatto che all'interno del gioco siano presenti i personaggi che quindi faranno delle azioni e che il master dovrà in qualche modo far reagire l'ambientazione alle azioni che i personaggi e i giocatori hanno fatto porterà progressivamente sempre più alterazioni a cascata e quindi alla fine l'ambientazione in un modo o nell'altro magari in maniera poco significativa ma verrà comunque alterata se però questo tipo di modifiche sono implicite e inevitabili questo non esclude che possano essere portate modifiche anche più pesanti in maniera del tutto volontaria dal master o dai giocatori per poter adattare meglio il mondo al gioco che si ha in mente indipendentemente da quale sia il motivo per cui volete fare queste modifiche che sia qualcosa di strettamente funzionale o che semplicemente ci siano degli aspetti o dei temi che a qualcuno al tavolo non piacciono la prima cosa da dire è che dovete sempre iniziare discutendo tutti assieme su che cosa volete cambiare e perché volete cambiarlo questo principalmente per evitare incomprensioni più avanti magari dopo mesi se non anni che la campagna è iniziata come abbiamo detto è scontato che i personaggi in un modo o nell'altro vadano a creare delle modifiche nell'ambientazione per il solo fatto di giocarci dentro ma dovrà essere discussa preventivamente quale sarà l'entità che queste modifiche potranno avere detto in parole mobile quale sarà il limite che i personaggi non potranno superare un ipotetico gruppo che giochi all'interno del mondo del ghiaccio e del fuoco potrebbe in qualche modo salvare la vita di robert barateon e quindi far proseguire la campagna in una sorta di realtà alternativa in cui la guerra dei cinque re non è mai avvenuta o dato che questo è un evento chiave all'interno di quella ambientazione indipendentemente ai loro sforzi non potranno mai fare nulla per prevenirlo sono entrambi possibilità legittime ma in quale dei due paradigmi si svolgerà il gioco deve essere discusso prima perché da una parte un gruppo che cercasse effettivamente di portare delle modifiche che volesse cambiare la storia a proprio vantaggio solo per poi vedersi vanificato ogni sforzo dal master che ha deciso che la storia non si può cambiare ci rimarrebbe male ma anche l'opposto ha senso il gruppo che cercaste di mantenere l'ambientazione il più fedele possibile all'originale che poi vedesse il master a portare degli enormi cambiamenti perché ha sopravvalutato l'impatto e loro azioni o perché loro hanno sottovalutato l'impatto che avrebbero avuto non sarebbero comunque contenti di aver visto cambiare l'ambientazione quando loro non volevano farlo se voi e il vostro party non avete problemi a inserire cambiamenti anche maggiori all'interno della vostra campagna non ci sono problemi scegliete semplicemente in che momento della cronologia di quell'ambientazione la vostra campagna avrà inizio e poi procedete a giocare liberamente ma se al contrario state cercando di essere più attinenti al cane possibile potreste voler utilizzare qualche metodo per assicurarvi che ci sia meno impatto possibile da parte della vostra storia in quella più generale in questo caso ci sono fondamentalmente tre modi principali in cui potreste agire il primo è quello di concentrarvi su eventi o minori o che sia perfettamente plausibile che per quanto rilevanti abbiano avuto poca importanza o poca diffusione all'interno del mondo di gioco più generale ed è quindi plausibile che abbiano influenzato molto poco se non abbiano influenzato affatto il mondo di gioco il gruppo di cyberpunk interpretato dai giocatori è riuscito in maniera rocambolesca a infiltrarsi in una sede della militech da cui il loro netrunner è riuscito ad accedere ai sistemi e portare via molti dati su dei prototipi di armi sperimentali che avranno anche un ampio utilizzo nella prossima guerra corporativa ma il loro cliente è voluto restare anonimo e ha fatto di tutto per non far risalire la questione a lui e la militech stessa una volta ha capito che non era più in grado di riprendersi dati ha cercato di insabbiare la faccenda per evitare la brutta figura di essere stati fregati da un gruppo di cyberpunk è ovvio che in un caso del genere per quanto la cosa abbia influenzato l'ambientazione la prossima guerra corporativa magari farà proprio uso di quelle armi ma dato che è stato fatto in modo che questa cosa sparisse del nulla è normale che il resto dell'ambientazione non ne sappia nulla e non ne venga influenzato in realtà non è l'unico modo è un evento potrebbe essere anche rilevante e anche particolarmente apprezzato ma per la sua natura non essere così rilevante rispetto ad altri eventi che sono successi e quindi venire considerato come un evento minore quando il generale Korinsky stava marciando per riprendere i territori dell'egemonia terrestre a seguito del tradimento di Amaris le sue forze sarebbero state travolte da un controattacco se non fosse stata per l'azione eroica di un reggimento di milizia planetaria guidato ovviamente dai McWarrior interpretato dai giocatori che hanno stroncato il controattacco e salvato Korinsky e i suoi uomini quindi permettendogli di riconquistare in seguito la terra l'evento magari è anche stato celebrato però poca gente finita la guerra è andata a pensare a tutte le volte in cui il generale Korinsky non ha perso di conseguenza gli eventi hanno influenzato l'ambientazione esattamente come si prevede che l'ambientazione doveva essere influenzata riporterà quindi che grazie al sacrificio di molte persone Korinsky alla fine ha vinto il secondo modo è quello di ambientare l'intera quest o l'intera campagna in una zona geografica che o non è particolarmente descritta all'interno della campagna o magari viene proprio inventata apposta per ambientarci la storia normalmente questo tipo di campagna ha senso se la nuova zona che viene inserita o la parte della zona che viene esplorata è piccola e potenzialmente isolata dal resto dell'ambientazione in modo da giustificare perché abbia avuto poca influenza sugli eventi storici riportati anche se c'è da dire che che cosa voglia dire piccolo e isolato dipenda molto all'ambientazione di riferimento la guerra dei cloni il conflitto tra la repubblica e la federazione secessionista ha influenzato centinaia se non migliaia di mondi della galassia lontana lontana di Star Wars in un contesto del genere una campagna che vedesse 4 Jedi interpretati dai giocatori al comando di un paio di decine di migliaia di cloni intenti a riconquistare una mezza dozzina di pianeti e poi difenderli dal controattacco alla federazione sarebbe comunque considerato un evento minore e di poco conto che avviene in una zona remota magari dell'orlo esterno o semplicemente lontano dalle azioni dei personaggi principali riportati all'ambientazione nonostante probabilmente a giocarla sarebbe una campagna che preveda centinaia di sessioni e che duri diversi anni spostando il focus della campagna su un luogo meno noto dell'ambientazione si ha anche il vantaggio di dare sia al master che ai giocatori più possibilità di inserire o variare altri elementi magari le cose all'interno dell'ambientazione come descritta funzionano in un modo ma in quella specifica zona funzionano in maniera leggermente diversa ci sono oggetti diversi, png diversi, anche miti e leggende popolari diversi proprio perché è una zona lontana dal resto del gruppo e quindi ha una sua cultura e delle sue usanze particolari diverse da quelle degli altri il terzo modo è anche quello più probabile che venga utilizzato anche perché nella maggior parte dei casi è quello proprio previsto dai manuali di gioco è che semplicemente la campagna abbia inizio e quindi prosegua dopo che tutti gli eventi raccontati all'interno della cronologia ufficiale dell'ambientazione si siano già semplicemente conclusi tutto quello che viene descritto nell'ambientazione è vero e viene lasciato così come descritto ma dato che è passato del tempo e ci sono nuove cose che succedano è perfettamente normale che arrivino nuovi personaggi vengano create nuove cose magari si scoprano anche nuovi posti che prima nessuno aveva pensato di andare a scoprire diciamo che è perfettamente normale che nel futuro succedano robe che non erano state previste prima la cronistoria del Signore degli Anelli si estende per centinaia di migliaia di anni dalle origini della stessa Ardea descritta nel Simarillion fino agli eventi successivi alla sconfitta di Sauron in cui nel ritorno al re nel finale viene detto che Aragorn ha poi regnato ancora per centinaia di anni e alla fine la maggior parte dei compagni dell'anello si sono imbarcati per andare al di là del mare però si hanno effettivamente poche informazioni frammentarie potrebbe essere perfettamente plausibile ambientare un'intera campagna in cui i personaggi dovranno aiutare a ricostruire i regni dell'Ovest o magari spostarsi più a sud un gruppo di sudroni adesso che il loro tiranno è caduto che devono vedere come ricostruire la loro intera società ora che si è scoperto che quello che loro veneravano era letteralmente il Signore del Male questo è anche il modo per lasciare più libertà assoluta ai giocatori di fare le loro scelte e dato che tutto quello che avverrà sicuramente non andrà a influenzare il canon quindi possono fare tutto quello che loro ritengono essere meglio per i loro personaggi senza andare a smuovere nessuno degli equilibri della storia già stabilita per ambientazioni molto grandi e molto diffuse va poi fatto un discorso a parte perché il tavolo dovrà probabilmente anche stabilire che cosa è effettivamente canonico all'interno di quell'ambientazione per quanto riguarda il loro tavolo molte delle ambientazioni più vecchie e diffuse nel corso degli anni hanno subito aggiunte, modifiche, retcon, materiale alternativo vari livelli di stratificazione delle opere che non tutti i tavoli potrebbero essere interessati a voler seguire ma altri tavoli potrebbero essere estremamente interessati ad andare a esplorare il materiale nuovo o semplicemente una rappresentazione diversa dell'ambientazione rispetto a quello a cui sono abituati nella vostra quest di Star Trek gli eventi di Star Trek Picard sono canonici o tutto quello dopo che è successo il Next Generation non ha senso magari la vostra ambientazione si ferma alla guerra del dominio o magari anche prima voi giocate nell'epoca di Kirk e quindi tutto quello che è successo dopo per voi non è mai successo ma Kirk prima o dopo i film? e in quel caso Star Trek Enterprise è canonico? la vera tredicesima crociata nera è quella del 2000 in cui Cadia ha retto e sono tornati Wolven o quella del 2010 in cui Cadia è stata distrutta ma Crawl aveva decine di migliaia di Super Space Marine che usano in cantina cosa succede dopo la battaglia di Yavin? il ritorno di Travn con Palleon e il Maestro Sabaioth o il primo ordine con Lord Snow e Kylo Ren? e so che queste mie parole potrebbero portare a delle guerre ferocissime qui sotto nei commenti in cui moltissime persone non solo non capiranno nulla di quello che succede ma resteranno allibiti dalla ferocia con cui viene esposto e mi piace esattamente così a seconda dei casi per qualcuno questi potrebbero essere dettagli minori assolutamente irrilevanti mentre per altri potrebbero essere questioni fondamentali che gli rovinerebbero il divertimento durante la quest in entrambi i casi comunque è meglio discuterne prima e decidere effettivamente che cosa è l'ambientazione originale per voi prima ancora andare a decidere che cosa volete cambiare di questa ambientazione normalmente io in questi video mi concentro di più sugli aspetti tecnici ma vista la natura particolare dell'argomento di questa settimana che non è tanto che cosa il master deve fare ma cos'è che al tavolo piace fare ho appunto preferito concentrarmi più su elementi estetici e di collaborazione al tavolo mettiamola così diciamo che una volta che vi siete messi d'accordo su che cosa vuole essere la vostra campagna e quindi quale sia il modo migliore per adattare l'ambientazione che state andando a prenderli la campagna di per sé verrà poi gestita come qualsiasi altra campagna con tutti i tecnicismi e i trucchi di cui abbiamo parlato nei vari anni nell'esistenza del canale quindi questo video è già stato mostruosamente lungo può anche finire qui adesso ovviamente sta a voi scrivermi nei commenti qui sotto di come quella volta vi siete scannati per delle ore su dei dettagli assolutamente minori di un'ambientazione tutto incomprensibile dagli altri membri del tavolo perché so che lo avete fatto per il resto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che tutta cresce il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo di telegram dove metto io i video manualmente quando escono quindi non ve li perdete per il resto io sono il Master K e noi ci vediamo al prossimo video